Bella raga e bentornati qua sul canale di Pompelmo! Oggi un video eccezionale che non vi sareste mai aspettato, sì, perché ho vinto una partita in arena solo con armi verdi. Eh sì, voi direte, normal, easy, beh, per un pelato con l'artrite alla mano e 36 anni su queste spalle, beh, tanta roba direi, veramente tanta tanta roba. Un gameplay emozionante. E vi invito a seguirmi tutte le sere in live sul Tubo Viola. Sapete cos'è il Tubo Viola? Beh, voi lo sapete, siete più amanti di me. Twitch. Oh, credio! No, l'ho detto! Potrebbe arrivare la censura di YouTube a tagliarmi il video! No, già faccio zero views e non era una trollata questa, zero views, però per l'impegno qui mi aspetto almeno 20 like. Dai, su! Era armi verdi, non so se mi spiego, con l'artrite. Vi lascio questo video e ci vediamo alla prossima! Ciao! Mamma mia. Diogard. Diogard non è troppo. Adesso cosa possiamo fare? Mark, get a shot del damage. Minchia però. Ah, è stato un bot, probabile. Sicuro era un bolt. Ah, com'è tranquilla, è la pubblica. Non arriva mai nessuno guardigo. No. Non arriva. Grazie. Grazie a tutti. Oh, cazzo! Oh, cazzo! Oh, cazzo! Cazzo! Non arriva nessuno guardico! Figa! Figa! Cazzo! Oh! Stiamo scherzando? Sì, è un trick della madonna quello! Siamo insetti, comunque! Voi cosa avete studiato oggi per sta roba qua? Sì, sì, no! Capito, capito, capito! Tipo voli! Beh, beh, ci sta come cosa! Beh, non è male, dai! C'è da vedere poi com'è... Com'è... Boh! Ma... Pubblica è divertente... Qua, secondo me, è più divertente dell'altra volta! Questa! 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 eh no, per l'affia Cazzo, sono morto con quella ombra di da figa, eh Mi stanno passando davanti delle armi, cazzo Quanti materiali ho? Beh, di roba ne ho Una sicuramente lì nel grano Ho già le grandi tecniche per fare i tornesi basato tutto sul flop per ombra C'è anche il flop per ombra E gli altri? Ah, vedi, stanno... Eh, sì, ce ne stanno molti di roba, no? Ah, vedi, stanno molti di roba, no? Cazzo, stanno... Figa, ma sta ombra, sta... sta cosa qua E qua, chi cazzo? Ma cos'è sta roba qua, fea? Tu È lì qua, noi Ma cos'è sta roba qua Non è morto, Pompelmo Adiooo Grazie a tutti.